Io so che la parazione della prevede è famosa per la famosa salsiccia che la fanno particolarmente grossi Ma tu ogni paese sai praticamente le specialità italiane C'è tu oggi assolutamente con una passetta di elicottero 2 kg di salsiccia Per fortuna di Ottavio è comunque registrata la declarazione dei bibi vilani Che mangi? Mortadella pranzo amatoriale a pranzo professionale rimane sempre domenica che c'è chi è la questa del fuoco la cuoca io piovanta perché lui sa fare solo la carne rostita tutto il resto però sta imparando e a imparare so fare anche il cenone di capodanno ti ricordo chiamarlo cenone è stata una cena ma cosa ha cucinato per il capodanno la pasta con e salsiccia ma la salsiccia di palazzolo ma diciamo che il bambino Siamo al bar di Palazzola Greide J live Cioè possiamo fare una borsa calda Con qualche fogliolina d'alloro Per digerire la pasta Siamo al bar di Palazzola Greide 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 Sì, ma comunque ce l'ho già dentro Però mi sta piacendo molto 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 questo giro Quindi bravo Ma bravo perché? Perché l'ho fatto tutto il giro Ma vero l'ho organizzato io Amica un commento a caldo sulla giornata A caldo Fino a ora Sono tutto a caldo Allora la giornata è partita un po' incerta a causa della meteorologia Questo vento c'è un po' rossa Chi c'è ne è? Chi sono? Il castello non è un rudere di un castello? Sì Dica No abbiamo bisogno di caffeina No di dolcini Abbiamo fatto un quattro ore di video Ho fatto svegliere alle sette e mezza pure di domenica Ora ne risendo Ho i postumi della settimana Più sta domenica Io l'ho ascoltato semplicemente Ottavio E quindi Un caffè me lo merito Così non vi disturba Allora facciamo dolcini e caffè Ho un dolce caffè Vediamo ragazzi Su questo mi riservo di pensarci Va bene Intanto bobbiamoci Perché io sto gelando Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti